e adesso voglio catturare la vostra attenzione perché sto per parlarvi di un progetto davvero molto interessante ponendovi una domanda avete mai immaginato di lasciare i vostri ricordi e le emozioni ai posteri attraverso la capsula del tempo vi dico da subito che non si tratta né di un film né di un romanzo di fantascienza ma è quello che realmente accadrà a napoli per la prima volta in campagna grazie all'opera realizzata da Mauro Rea e Michele Lubrano ma per conoscere di più il progetto ma soprattutto per sapere maggiormente su questo contenitore speciale che attraverserà il futuro fino al 2065 abbiamo con noi la nostra ospite il buongiorno a Diana Di Paolo di Misteri del Parco. Misteri del Parco è la nostra cooperativa e questa idea nasce dalla mente geniale della mia socia nonché ideatrice di tutte le nostre manifestazioni che sono sempre un po' particolari che si chiama Beatrice Baino e ha avuto questa idea che ci è venuta anche dopo la pandemia perché ovviamente quel periodo è stato per noi molto mortificato. Intanto io se l'è d'accordo direi proprio di restituire il fascino di tale progetto al nostro pubblico vedendo dal vivo dal vivo il tema attraverso il trailer di presentazione dell'opera. Vediamolo insieme. Dove sono? A Napoli. Ma che anno è? Il 2022. Bontà divina. Devo andare nel 2065. E perché? devo aprire la capsula del tempo. Andiamo ragazzo. Come ti chiami? Gennaro McFly. Grande Giove. La capsula del tempo e ne abbiamo visto il trailer molto simpatico e diciamo anche da subito che è un esemplare in assoluto in Campania ed è tra le pochissime capsule presenti in realtà in Italia. Possiamo immergerci da qui a un futuro, quello prossimo 2065 e attraverso questa capsula del tempo portare lì dentro tutti i nostri pensieri, i nostri ricordi. Esattamente. Stanno arrivando alla mail info.la capsula del tempo che ho c'era gmail.com. Parecchi manfatti. Stiamo selezionando perché evidentemente quelli che riteniamo offensivi o comunque perché purtroppo può succedere. Non in linea. Lì confezioneremo in bustine sigillate per evitare che il tempo appunto possa consumarne parte. E verranno messi in questa capsula che poi è molto bella perché la base, cioè la parte superiore rappresenta il castello diciamo di Dell'Andia, quello iconografico del loro logo e sotto c'è questa capsula che è un contenitore stagno di legno e dentro di acciaio dove verranno... Contenente tutti i ricordi. E qui nel 2065 quando andremo ad aprire questo scrigno dei ricordi... Magari lei potrà lasciare una parola per i suoi posteri, per i suoi nipoti che ancora non sono nati o potrà lasciare un ricordo all'umanità intera dicendo guardate se ce l'abbiamo fatta noi uscire dalla pandemia. Un segno tangibile della nostra presenza. Un segno tangibile della nostra presenza che ci auguriamo vada tutto bene e si possa aprire con tranquillità nel 2065 perché appunto Dell'Andia compierà 100 anni. Allora non è caso quindi la data 2065, quindi 100 anni compiere Dell'Andia, però diciamo anche a pubblico che fino al 30 novembre avrete la possibilità di depositare all'interno di questo scrigno della capsula del tempo tutto ciò che vorrete, i vostri ricordi, i vostri pensieri, fotografie, manufatti, oggetti, disegni. Abbiamo coinvolto le scuole del territorio napoletano, abbiamo coinvolto anche le associazioni proprio per poter lasciare magari il bambino che oggi va in prima elementare si troverà poi da adulto a trovare un proprio manufatto, a ritrovare un po' se stessi. È bello, ecco, sembra di essere un po' un ritorno al futuro, tra l'altro proprio il trailer lo rievocava, è un'iniziativa molto interessante però a questo punto poiché tanti di noi avremo l'intenzione di lasciare testimonianza della nostra presenza proprio in questo periodo storico e magari anche poi fra un mese o due mesi. Che cosa dobbiamo fare? Come avviene questo lascio? Allora, bisogna mandare la mail con il proprio scritto a info.lacapsuladeltempo.gmail.com o portare fisicamente il proprio manufatto alla nostra sede in via Alcidele Gasperi 45 o mettersi in contatto con noi e capire se uno ha difficoltà a fare queste cose come poter raggiungerci alle dell'Andia anche fisicamente. Una curiosità tecnica, com'è che è realmente realizzata la capsula del tempo? Perché da qui proiettare la stessa 2065 e poi di qualche quesito resisterà la stessa Sì, 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 è stata fatta in materiale, la capsula interna è stata fatta in materiale stagno quindi non sarà deteriorabile. Invece la parte superiore è fatta in resina e quindi è destinata a durare e verrà messa nel percorso del trenino di Dell'Andia. Perché Dell'Andia? Perché Dell'Andia in realtà è un legame, il liaison di quattro generazioni. Dell'Andia è stata edificata e aperta nel 1965 e io ero appena nata e adesso mi ci ritrovo ci sono andata da bambina, ci ho portato mio figlio e ora ci porto i miei nipoti. Quindi è questo legame, è questa magia che è rimasta immutata. La magia che è rimasta immutata naturalmente l'intenzione, l'obiettivo è anche quello di valorizzare il proprio concetto del tempo. In un tempo che deve essere in questo caso considerato nella sua totale interezza presente, passato e futuro ma anche per restituire valore al tempo probabilmente in una società storica, quella nostra molto frenetica, oggi diamo poco valore al tempo e alla qualità del tempo speso per le relazioni anche con gli altri. Sì sicuramente, noi diamo poco valore al tempo e lo sprechiamo molto. Lo sprechiamo, diamo il giusto valore come succedeva invece prima perché non c'era l'immediatezza dell'informazione. Adesso tramite infernet, come dice giustamente una mia amica e tutto quello che è la telecomunicazione rapida, noi siamo sempre pressati dal tempo, siamo continuamente localizzati dai social, dobbiamo fare, dobbiamo comunicare, invece bisognerebbe prendersi una pausa. Una pausa e il tempo dare il giusto valore al tempo. Volevo sottolineare che la capsula del tempo non è solo la manifestazione che si terrà di apertura, il 18 di dicembre, ma è una serie di eventi e spettacoli che si tengono alle Dell'Andia che fanno parte di un progetto del Comune che si chiama Fabulazione, che per la prima volta, in tanti anni io faccio l'attrice dal 1986, e per la prima volta il Comune, di accordo con il Ministero della Cultura, hanno finanziato una serie di spettacoli nelle periferie a cui il pubblico può raggiungere gratuitamente. E quindi è proprio una proposta artistica multidisciplinare? E quindi è una proposta artistica multidisciplinare, quindi c'è la danza, il teatro, la musica e il circo. E ci sono vari appuntamenti, oggi e domani ci sarà uno spettacolo itinerante, si chiama Come una bestia, Pulcinella racconta con Antonio Perna. Poi ci saranno degli spettacoli di danza, etnei danzi dal mondo, dove apriamo la Capoeira, dove apriamo la Taranta, che andranno avanti fino a dicembre. Il 18 dicembre ci sarà appunto la posa della Capsula e ci sarà anche uno spettacolo in Baracca dei Buffoni che si chiama Tra le Nuvole, uno spettacolo molto bello, molto poeta. Senta, se potesse Napoli lasciare qualcosa in una Capsula del Tempo, che cosa lancierebbe verso il futuro, battuta flash? Ah, io già l'ho scritto, il mio bel messaggio al futuro, ed è una frase per i miei nipoti, la speranza, la speranza di vita è quella. E la qualità del tempo e il valore del tempo. Grazie, grazie a Diani Paolo di Messieri del Parco, la Capsula del Tempo, un progetto interessante per dare valore al tempo, ma soprattutto per restituire al nostro futuro un lascito di noi stessi, una testimonianza tangibile di quello che oggi siamo. Grazie davvero, piccolo break, restate con noi.